Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di due gemelle decisamente particolari. Forse avrete già sentito parlare delle gemelle Gibbons, ma cercando superficialmente su YouTube in italiano ho trovato solo video di pochissimi minuti. Quindi oggi in questo video ho deciso di raccontarvi la storia di Jennifer e June, le due gemelline silenziose. Ma chi sono Jennifer e June? Ebbene Jennifer e June nascono da due immigrati caraibici, Gloria e Aubrey. La coppia si trasferisce dalle Barbados al Regno Unito all'inizio degli anni 60. Gloria è una casalinga, mentre Aubrey lavora come tecnico per la Royal Air Force. Jennifer e June nascono l'11 aprile del 1963 in un ospedale militare ad Aden, una delle città principali del Yemen. Nel 1968 la famiglia si trasferisce. Si stabiliscono in Inghilterra sperando di dare un futuro migliore alle loro due figlie. I Gibbons sono fieri delle loro creature e cercano sempre di sottolineare la loro unicità. Infatti nel periodo in cui June e Jennifer sono piccole, i genitori le vestono praticamente nello stesso modo. Sono sempre vestite uguali. Le ragazze adorano essere identiche, anche se un occhio attento può riuscire a distinguerle. June è la più intelligente, ma Jennifer è quella dominante, colei che tira le fila del loro rapporto. Man mano con le gemelle crescono i genitori si rendono conto che le loro figlie si stanno sviluppando in un modo decisamente diverso rispetto agli altri bambini. Le ragazze infatti sono un po' strane, non parlano con nessuno. Uno dei motivi per cui le ragazze non parlano è un disturbo del linguaggio, ossia l'anchiloglossia. Questa è una malformazione della cavità orale e consiste nell'accessiva aderenza della lingua al pavimento della bocca, che ne limita i movimenti. In pratica hanno il frenolo corto e il frenolo si trova sotto la lingua. Nel 1974 la famiglia si trasferisce di nuovo e si stabilisce ad Aberford West, un'antica cittadina gallese. Il posto è abbastanza sperduto, ma Aubrey ha trovato lavoro lì e quindi è lì che devono vivere. In quel periodo, ahimè, Gibbons sono l'unica famiglia nera di tutta la città. E quella comunità gallese, tutto sommato piccolina, non aveva mai visto persone nere. Chiaramente le gemelle fanno molta fatica a inserirsi tra persone che trovano il loro accento, la loro pelle o i loro capelli, quantomeno insoliti. Per non dire qualcosa di peggio. Il loro disturbo del linguaggio, per di più, peggiora solo le cose, in quanto le persone fanno davvero tanta difficoltà a capire cosa dicano. Tra di loro parlano molto velocemente, ma il loro linguaggio risulta incomprensibile agli altri. Infatti, le persone sostengono che le gemelle hanno una lingua segreta con cui comunicano. Per il colore della pelle, il fatto di essere identiche e i problemi di comunicazione, le sorelle Gibbons in questo ambiente non vengono trattate poi così bene dai loro compagni di classe. E l'ambiente scolastico per loro diventa un vero e proprio incubo che devono affrontare quotidianamente. È così che le gemelle, per sopportare quei giorni, si appoggiano l'una all'altra. A questo punto, il loro essere uguali diventa la loro unica fonte di sicurezza. Tanto che ben presto anche le loro muovenze diventano identiche, così come il loro aspetto. Entrano in classe tutti i giorni, una dietro l'altra, sembrano dei robot. E durante l'intera giornata scolastica, le due ragazze rimangono in totale silenzio. Tanto che, col tempo, parecchie persone a scuola arrivano a pensare che non conoscono la loro lingua. Ecco perché non parlano. Inoltre, ahimè, il loro modo di fare attira delle attenzioni davvero indesiderate. In quanto le gemelle vengono fortemente prese in giro. Inizialmente non succede nulla di che. I compagni si limitano a fare delle smorfie quando passano. Oppure fanno le classiche battute tipo Oh, ma non sapete parlare? Il gatto vi ha mangiato la lingua? Col tempo però la cosa peggiora perché i loro compagni iniziano a insultarle mentre camminano per i corridoi della scuola. Dicono loro che sono orribili, che fanno schifo. E, tra l'altro, la cosa peggiora ulteriormente col tempo. Infatti i ragazzi e le ragazze della scuola arrivano a strappare delle ciocche di capelli a June e a Jennifer. Infilano le loro teste nei water della scuola. E dinanzi a tutte queste cattiverie le gemelle rispondono sempre col silenzio. Se la situazione si aggrava ulteriormente e si ritrovano circondate da compagni di scuola che le scherniscono, si limitano a mettere le mani una sulle spalle dell'altra, chinare la testa e subire tutti gli insulti che gli vengono lanciati. Gli insegnanti arrivano a farle uscire da scuola prima dei loro compagni, in modo da evitare altri atti di bullismo. Le gemelle Gibbons escono da scuola nello stesso modo in cui entrano. Camminano una davanti all'altra muovendosi all'unisono. Si muovono come degli automi, in totale sincronia ma molto lentamente. Sembra quasi siano una sola persona, perché sono bloccate in una realtà in cui esistono solo loro, due gemelle. Le ragazze ovviamente continuano a frequentare la scuola, ma quel tempo si rifiutano addirittura di leggere e di scrivere. Arriviamo al 1974. Le gemelle hanno 11 anni e un medico scolastico preposto alle vaccinazioni nota il loro comportamento. Sono impassibili? Se si muovono lo fanno in modo identico e non parlano. Il medico si rende conto che c'è qualcosa che non va, quindi segnala la situazione e raccomanda uno psicologo infantile per June e Jennifer. I genitori sono determinati a far star meglio le figlie, perché si sono resi conto da tempo che c'è qualcosa che non va in loro. Quindi seguono il consiglio del medico della scuola e tentano di farli visitare da diversi terapisti. Le gemelle vanno in visita da un logopedista al Wittibash Hospital. E sebbene parlino davvero molto raramente con qualcuno, il terapiauta riesce a registrarle mentre parlano dal sole e scopre che la loro lingua segreta in realtà non è affatto segreta. Le gemelle parlano al Bajan, spero di star pronunciando bene questa parola. Questa è una lingua creola basata sull'inglese parlato a Barbados. Risultano incomprensibili perché tra di loro conversano ad una velocità impressionante. Così, sulla base di questa nuova scoperta, le gemelle vengono iscritte all'Eastgate Center for Special Education di Pembrook. Questa scuola è un collegio, quindi le ragazze di base si staccano dall'ambiente familiare, in quanto rimangono lì, a scuola, anche a dormire. Le due gemelle sembra che se la passino decisamente meglio in questa nuova scuola. Non subiscono più bullismo dei compagni, però la situazione in me non cambia. Non parlano con gli insegnanti, anche durante le sessioni di terapia, le gemelle stanno in silenzio. La prima cosa che i terapisti scolastici fanno è stabilire se per caso tra di loro siano presenti delle differenze. E in effetti i terapisti si rendono conto che di differenze non ce ne sono. Sembrano la stessa persona. Durante la pausa pranzo sono solite mangiare in modo lentissimo, ma soprattutto lo fanno all'unisomo. Quindi se stanno mangiando un toast, contemporaneamente lo prendono in mano, lo portano alla bocca, lo addentano per poi ripoggiarlo sul piatto. Tutto con estrema lentezza. Quando gli altri studenti dunque si alzano e se ne vanno, June e Jennifer sono ancora seduti al tavolo, in mensa, a mangiare in quella maniera davvero, davvero bizzarra. Le cose comunque qua non migliorano affatto, neanche con gli anni. Quindi nel 1977 i terapisti dell'istituto provano a fare una scelta davvero drastica, ossia le separano. In quanto gli psicologi che stanno valutando le ragazze, hanno il forte sospetto che June, se lasciata in una stanza da sola senza Jennifer, sarebbe stata più collaborativa e propensa a parlare. Perché Jennifer, che è la dominante, dà la sorella dei segnali verbali e non verbali, per zittirla, per non farla parlare, per farle capire che non è d'accordo con la sua scelta, con quello che sta dicendo, quelle rarissime volte in cui dice qualcosa. Quindi, per la prima volta nella loro vita, Jennifer e June vengono divise. June viene mandata all'unità per adolescenti di San David, mentre Jennifer rimane l'Hastgate. Il problema è che a seguito della separazione entrambe cadono in una terribile depressione, tanto da suscitare una grande preoccupazione in tutti. June è catatonica, non si muove dal letto, è gravemente depressa e quando la alzano e provano a farla stare seduta, devono per forza appoggiarla al muro o crollerebbe di nuovo sdraiata letto. A questo punto gli esperti temono che in realtà la separazione forzata sia in effetti peggiorando la condizione di queste due gemelle, di queste due ragazze. Insomma, a un certo punto si rendono conto che davvero non c'è nulla da fare. Quella scelta si è rivelata un vero e proprio fallimento su tutti i fronti. Separarle era stato peggio che lasciarle assieme. Tutti sono convinti di aver fatto del loro meglio, ma evidentemente non è stato sufficiente. Gli psicologi a questo punto si sentono impotenti, perché se le gemelle non possono stare separate, non possono vivere l'una senza l'altra, come avrebbero mai fatto a crescere normalmente? Il loro destino pare già segnato. La giornalista e attivista per la salute mentale Marjorie Wallens ha descritto la loro relazione come un gioco di infanzia parecchio inquietante e andato fuori controllo. In ogni caso, all'età dei 16 anni, le gemelle Gibbons lasciano definitivamente la scuola e tornano a casa. In questo periodo ricevono un sussidio di invalidità e in pratica restano sempre rintanate nella loro camera da letto. A porte chiuse e senza sguardi e orecchie indiscrete, le tensioni tra le due gemelle divampano. Infatti col tempo il loro rapporto diventa una continua lotta per affermare la loro identità. Arriva l'inverno del 1979 e June e Jennifer a questo punto vivono isolate da oltre un anno. In pratica si fanno vedere dalla famiglia solo durante i pasti. E ahimè, i genitori non sanno cosa fare. Chiaramente hanno buone intenzioni, ma non hanno idea di come affrontare la situazione. In quanto non riescono a parlare con le loro figlie. Le gemelle hanno eretto questo muro di silenzio invalicabile. Alla fine le figlie le hanno totalmente esclusi. E col tempo il legame delle gemelle diventa così indissolubile, tanto che vogliono stare solo nella loro camera insieme. Le sorelle quindi si rifiutano ormai di uscire dalla loro camera. Quindi la madre ogni giorno lascia davanti alla loro porta della camera da letto due vassoi con i loro pranzi e le loro cene. Se le gemelle vogliono dire qualcosa alla famiglia, scrivono un biglietto che fanno scorrere da sotto la porta. Su questi biglietti scrivono cose del tipo Accendete la televisione alle nove e poi andate via tutti. E a questo punto la famiglia obbedisce, le asseconda. Dietro alla porta della loro stanza le gemelle creano il loro rifugio. Quello è tutto il loro mondo, il loro territorio. E infatti lasciano che la loro immaginazione prenda il volo. Le ragazze nella stanza parlano molto tra di loro e si raccontano delle storie che chiamano radiodrammi. Inoltre al posto di entrare in contatto con persone reali, le ragazze hanno le loro bambole. Tantissime bambole. Che usano come attrici per raccontare delle storie che puntualmente hanno una fine violenta. Insomma per un motivo o per un altro una di quelle due bambole finiva sempre uccisa o mutilata. Ben presto dal creare le storie con le loro bambole le ragazze si sfogano con la scrittura in quanto ricevono in regalo un diario ciascuna da loro madre. E in questi diari le gemelle iniziano a scrivere tutto quello che fanno. Pare abbiano un talento naturale con la penna peraltro non possono fuggire l'una dall'altra. Quindi finalmente possono esternare tutte quelle emozioni represse che man mano accumulano dentro di loro. La scrittura per le gemelle diventa un vero e proprio sfogo. Il loro unico sfogo a dirla tutta. Piene di creatività dopo aver scritto centinaia di storie e aver concluso decine e decine di diari le gemelle ricevono in dono due macchine da scrivere portatili. Qual fine di iniziare seriamente a scrivere dei romanzi. La madre delle gemelle Gloria sente spesso il tichettio della macchina da scrivere fino a tardanotte ma non ha idea di cosa stiano scrivendo le figlie. Le due gemelle ora hanno un sogno diventare delle scrittrici vogliono diventare delle romanziere. Si rendono conto che quello per loro è l'unico modo che hanno per riuscire a comunicare quello che provano a tutto il resto del mondo. Se non possono farlo con la parola lo faranno con la scrittura. Le loro storie sono tutte drammatiche tutte violente e tutte ambientate negli Stati Uniti. In particolar modo a Malibu in California. Ma perché ambientare le loro storie proprio negli Stati Uniti? Perché non in Galles dove vivono? Ebbene le gemelle sono ossessionate dagli Stati Uniti perché oltre ad essere delle aspiranti scrittrici sono state anche delle lettrici voraci. Hanno appreso infatti tutta la cultura americana attraverso libri, fumetti e ancora giornali. Il punto è che la loro è una vera e propria ossessione. Un'ossessione sulla cultura e sulla vita degli adolescenti americani. Le gemelle appubblicano alcuni dei loro romanzi unendo la loro indennità di disoccupazione in modo da poter pubblicare questi libri in un'auto edizione. Il problema è che i loro libri non se li calcola a nessuno ma le ragazze non si scoraggiano e quindi provano a mandare altri romanzi a una casa editrice che neanche gli dà mai risposta. Quindi questa casa editrice non le calcola minimamente e per le gemelle questo rappresenta l'ennesimo rifiuto da parte del mondo esterno. Ormai sono cresciute, hanno 18 anni e si sono rese conto che bramano il mondo reale. Vogliono vederlo, vogliono viverlo. Arriviamo quindi all'estate del 1981 quando June e Jennifer, non avendo effettivamente una personalità, iniziano a immedesimarsi nei personaggi che avevano creato nei loro romanzi. Le due ragazze infatti, non si sa come, conoscono un ragazzo della zona e questo ragazzo ha tre fratelli e sono tutti quanti americani. Chiaramente per le gemelle poter stare a contatto con dei ragazzi americani è un vero e proprio sogno che si avvera. Ma in presenza dei ragazzi June e Jennifer si paralizzano, continuano a non dire una parola e i ragazzi trovano questa cosa strana e buffa. Ben presto, questo diventa una fonte di divertimento per loro. Quindi le chiamano spesso e le invitano a uscire. June e Jennifer, ben presto, si infatuano di quei ragazzi e per la prima volta nella loro vita si sentono finalmente felici. Finalmente la loro vita pare avere un barlume di normalità. E infatti tutti i giorni June e Jennifer si preparano, si fanno belle. Poi salgono su un taxi e vanno dei loro amici a Welsh Hook. Chiaramente un problema resta. Attirare l'attenzione dei ragazzi stando per lo più in silenzio non è un approccio vincente. Così un giorno spinte dai ragazzi provano a bere dell'alcol per la prima volta nella loro vita. E si rendono conto che così, bevendo, la situazione diventa molto più facile e gestibile. L'alcol per loro è utile perché le rende meno timide. Le aiuta finalmente a parlare, da loro maggiore sicurezza, riducendo chiaramente le loro inibizioni. Ed è così che le gemelle ben presto diventano intimamente attive. Stanno con quei ragazzi e sono delle partner tutto sommato disponibili perché vogliono conoscere il mondo, ma soprattutto vogliono conoscere il loro corpo. Quando una delle due gemelle perde la verginità, l'altra cerca di rimanere al passo, insomma. Però competere per l'attenzione dei ragazzi crea altre tensioni fra le sorelle, scatena i loro sentimenti di rivalità e anche una certa gelosia. Prima avevano gareggiato per scrivere il romanzo migliore, ora stanno gareggiando per trovare un fidanzato. E questo ovviamente crea diversi contrasti, perché il loro rapporto diventa una continua lotta, talvolta anche fisica. E il fine è sempre quello di affermare le loro identità, perché in effetti non ne avevano una. O meglio, le loro identità, le loro personalità erano uguali. E infatti nel loro diario avevano scritto che alla fine una sarebbe dovuta morire per permettere all'altra di vivere. Ben presto, però, June e Jennifer fanno una terribile scoperta insieme. Un giorno si alzano e come al solito si preparano, si fanno belle e prendono solito taxi per andare dai ragazzi. Ma quando giungono a casa loro trovano solo una cartolina. E su quella cartolina c'è scritto che se ne sono tornati negli Stati Uniti. Non le hanno neanche salutate, non le hanno avvisate prima di andare via. Hanno solo lasciato lì quella cartolina. Le ragazze a questo punto sentono che per loro è tutto finito. Il mondo di nuovo gli crolla addosso. Questo per le gemelle è l'ennesimo rifiuto, peggiorato dal fatto che amano quei ragazzi. Abbandonate anche dagli unici amici che avevano vicino, le gemelle cercano modi per sfogare la loro rabbia e i loro risentimenti. Sono ossessionate dal crimine, questo lo si evince anche leggendo le loro storie. Come già vi ho detto, iniziano ad impersonare le protagoniste delle loro storie. Quindi un giorno prendono una decisione. Secondo loro, intraprendere la strada per diventare delle criminali è la scelta giusta. Iniziano quindi a girovagare per le strade e a compiere frazioni senza senso, casualmente. La prima frazione la compiono in un centro educativo che si trova poco distante da casa loro. Quindi le gemelle entrano, vandalizzano il luogo e alla fine rubano anche qualcosa. Questo però è solo l'inizio. Peraltro, generalmente, dopo aver commesso qualche furto, chiamano la polizia locale per avvisare che qualcuno è entrato in un dato posto e poi se ne vanno. Col tempo, le azioni criminali delle gemelle passano dai furti alla devastazione, agli incendi. In realtà, June e Jennifer vogliono solo attirare l'attenzione. Quindi iniziano ad appiccare fuochi totalmente a caso nella città. Pare che ad un certo punto abbiano iniziato a riversare il loro odio sull'ambiente che le circonda. Ogni incendio è peggiore del precedente. Vogliono diventare le più grandi piromani che la città abbia mai visto. E in effetti raggiungono ben presto il loro obiettivo bruciando un deposito di trattori. Quello reato molto grave e con quel gesto raggiungono l'apice in quanto l'incendio causa centomila sterline di danni ai proprietari. La loro carriera criminale volge al termine quando June e Jennifer si introducono alla Pembrokeshire Technical College rompendo una finestra. Il guardiano sente il rumore di vetri rotti, chiama la polizia e le gemelle vengono colte in flagrante. Dopo l'arresto per di più detective trovano delle prove schiaccianti nella loro camera da letto ossia i loro diari. Su quei diari sono scritti in modo più che dettagliato tutti i reati che June e Jennifer avevano commesso. Quindi quei diari provano anche l'intenzionalità delle azioni commesse dalle due gemelle. Avevano scritto quasi con amore delle fiamme che avvolgono gli edifici. Sostingono nei loro diari che quell'atto grandioso avrebbe permesso loro di essere ricordate e di guadagnarsi un posto nella storia. Nel 1982 le gemelle Gibbons vengono formalmente accusate per incendio doroso e furto con scasso. Durante il processo June e Jennifer sono sedute vicine e come al solito stanno in silenzio mentre la corte discute del loro caso. I familiari e gli amici aspettano con timore in quanto sono consapevoli che June e Jennifer non possono essere mandate in prigione a causa della natura del loro comportamento. A dirla tutta non c'è neanche un posto adatto a loro ma devono essere messe in condizione di non poter reiterare i reati. Quindi rimane solo un'opzione mandarle al Broadmoor Hospital. Il Broadmoor è un ospedale psichiatrico giudiziario un manicomio criminale. Al suo interno sono ricoverati i criminali peggiori della Gran Bretagna ad esempio lo squartatore dello Yorkshire. Di conseguenza dentro quella struttura sono presenti diverse persone disturbate che devono ricevere quotidianamente la giusta dose di farmaci per non diventare pericolosi. Una volta rinchiuse June e Jennifer ormai 19 anni vengono di nuovo separate in quanto le mettono semplicemente in due reparti diversi. Le due si possono vedere solo la sera e nei weekend. Non più unite le gemelle in questo caso ahimè precipitano nella follia. Jennifer arriva ad aggredire un'infermiera e lei non è mai stata violenta. Mai. Mentre June di nuovo non parla con nessuno Jennifer invece tenta di parlare ma purtroppo quel tempo risulta sempre più incomprensibile perché non parla con nessuno non si allena quindi a parlare. Paradossalmente è proprio il ricovero che fa cadere le due giovani nell'oblio col tempo diventano sempre più violente indisciplinate quindi a Jennifer e a June vengono somministrate dosi massicce di farmaci antipsicotici. I farmaci chiaramente le stordiscono e purtroppo sottosedativi la loro fervida immaginazione si prosciuga inevitabilmente. E' a questo punto che June e Jennifer si convincono di non poter sopravvivere assieme quindi a quanto pare hanno deciso insieme che visto che June è la primogenita e anche la più forte avrebbe continuato a vivere per entrambe. Non è chiaro se le due gemelle avessero stretto un patto però in effetti nel diario di Jennifer c'era scritto io lo so morirò giovane e molto prima di te. Nonostante Jennifer riesca a controllarsi molto meglio rispetto al passato entrambe sono consapevole che June ha maggiori possibilità di sopravvivere in quel mondo in quanto ce l'ha una sua identità e avendo la sua identità e la sua personalità può essere libera. Jennifer invece la sua personalità l'ha plasmata con quella di sua sorella arriva il 9 marzo del 1993 quando dopo 11 anni di manicomio criminale June e Jennifer ricevono finalmente una buona notizia. Manca un mese al loro trentesimo compleanno e finalmente possono andarsene possono essere spostate in una struttura di media sicurezza le gemelle finalmente sono felici capiscono che la libertà è a portata di mano ma la mattina del trasferimento da Broadmoor alla Caswell Clinic qualcosa purtroppo non va. entrambe salgono sul pullman per essere trasferite e June già intuisce che sua sorella non sta bene ma temendo che le autorità carcerarie non le avrebbero rilasciate decidono di comune accordo di tacere sulle condizioni di Jennifer la ragazza sta male loro sono in viaggio e a un certo punto Jennifer perde semplicemente conoscenza non riescono a capire che problema abbia ed è a quel punto che perde la vita June a questo punto deve davvero separarsi dalla sorella quindi è autorizzata a vederla all'ospedale per l'ultima volta prima del funerale la cosa più assurda di questo caso è che la morte di Jennifer non è mai stata spiegata in quanto l'autopsia ha rivelato che nell'organismo la ragazza non aveva nessun tipo di sostanza o veleno è morta di crepacuore almeno così dicono i medici June soffre terribilmente per la scomparsa di Jennifer ma col tempo si rende conto che la sua scomparsa è una vera e propria liberazione per lei perché June si rende conto che ora è davvero libera nel 2008 vive una vita tranquilla e indipendente è una donna stupenda cordiale estroversa mostra compassione e aiuta i suoi familiari quando sono in difficoltà June giorno dopo giorno continua a migliorare continua a portarsi Jennifer la sua gemella nel cuore perché come dice lei stessa è e rimarrà sempre una gemella sente di avere il dovere la responsabilità di vivere al meglio per entrambe nel 2016 June ha rivelato in un'intervista che la famiglia era stata profondamente turbata dall'incarcerazione delle ragazze in colpa a Broadmoor per aver rovinato la sua vita e aver chiaramente trascurato la salute di Jennifer voleva addirittura intentare causa contro il manicomio criminale ma suo padre Aubrey e sua madre Gloria si sono rifiutati quella causa non avrebbe sicuramente riportato a casa Jennifer questa non è esattamente una storia true crime lo ammetto nessuno viene ucciso barbaramente ma trovo che le gemelle Gibbons abbiano vissuto una vita difficile complessa e anche complicata da comprendere da chi è esterno ma credo che questa storia abbia qualcosa di straordinario questa è una storia formata da legami fraterni di amore e odio di isolamento di immaginazione la storia delle gemelline silenziose a me ha particolarmente colpito ma voglio sapere anche cosa ne pensate voi nei commenti quindi ragazzi fatemi sapere se per caso conoscevate già questa storia oppure se ve l'ho fatta conoscere io spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento e vi abbia anche tenuto un po' di compagnia io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.